Ben ritrovati al notiziario del 26 maggio. Ancora aumenti nelle quotazioni dell'olio extravergine d'oliva nazionale. Situazione, peraltro, iniziata nel luglio 2022, quando le previsioni davano un calo di produzione a causa di uno sfavorevole andamento climatico. Stessa situazione l'abbiamo per il lampante e il raffinato di oliva. Nel grafico si evince come gli aumenti siano iniziati da quel periodo. Le medesime condizioni si stanno presentando in quest'annata. Quindi, sulle quotazioni, non incidono solo gli aumenti dei costi, bensì anche gli effetti dell'aspetto climatico. Variazioni si hanno nelle quotazioni regionali di mercato. Le principali piazze pugliesi, Andria, Bari e Foggia, superano quelle siciliane e di Chieti-Pescara, con valori che si attestano sui 7,05 euro, 7,10 euro, chilo. Si ringraziano l'Oleificio Renna per gli aggiornamenti e un attento ascoltatore marchigiano per averci segnalato un errore nel calcolo percentuale su un grafico dello scorso notiziario riguardante il prodotto spagnolo. Mercati esteri In Andalusia, le brevi piogge stanno idratando gli oliveti e, sebbene non abbondanti, hanno dato motivo di contenere il pessimismo per la campagna olivicola in corso. Questo ha portato a una stabilità di mercato nelle quotazioni settimanali. Grazie per l'attenzione! Vi do appuntamento alla prossima settimana! In Andalusia, le brevi piogge stanno idratando gli oliveti in Andalusia, ieri! In Andalusia, le brevi piogge stanno idratando gli oliveti che ho avvisato il risultatore, Grazie a tutti.